e buongiorno ragazzi bentornati sul mio canale dalla mia faccia si vede che non ho dormito molto bene ma perché oggi è una giornata speciale sono davvero emozionata così da tipo tre giorni oggi è la giornata dell'evento di Our Fit Hub dove conoscerò alcune delle ragazze della mia piattaforma di allenamento finalmente dopo mesi che ci alleniamo in diretta comunque tramite video ci alleneremo dal vivo e passeremo tutta la giornata insieme raga non vedo l'ora qua adesso io lascio vedere sono piena di cose da darle a questo punto iniziamo questa giornata con la colazione importante ecco praticamente è da giorni che io dormo con i regalini di fianco al letto questi qua sono tutti i sacchettini che ho fatto e non vedo l'ora di darli anche perché ho fatto tutte le tichettine a mano con tanto amore e sono davvero tantissimi perché oggi saremo 25 e in più qua ci sono altri scatoloni con alcuni pezzi forti che non posso ancora farvi vedere e quindi dobbiamo aspettare di essere in palestra per una giornata speciale ci vuole ovviamente una colazione speciale e quindi un bel porridge caldo piccolo consiglio utilizzate metà farina d'avena e metà fiocchi d'avena cacao e tantissima acqua in modo tale che il composto non risulti troppo solido e molto più digeribile dopodiché come topping ho messo frutta burro di arachidi ed eccolo qua pronto poi è arrivato il momento del restauro perché questa mattina sinceramente ce n'era davvero bisogno quindi skin care veloce un pochettino di trucco come vedete uso praticamente tre prodotti in croce ed eccomi qua pronta per iniziare la giornata anzi questa giornata speciale raga aiuto sto letteralmente impazzendo ho mille cose da prendere ho tipo una lista di cose e ecco fra dieci minuti devo uscire aiuto comunque questo è il mio outfit per essere in tema rosa di me protein è bellissimo ma sopra andrà un'altra cosa che non vi posso ancora farvi vedere il mio workout incomincia già adesso o meno male che è vicino a casa ragazzi qua ci sono le cose segrete è incastrato bene? si? eccoci qua questa qua è la palestra dell'evento adesso sistemo tutte le cosine in ordine qua nella sala lounge e poi c'è anche la saletta proprio solo per fare le foto in cui c'è un logo gigante di award fit up ma lo faccio vedere eccolo qui ecco non rende tantissimo l'idea ma se mi metto così si è gigantesco è due metri e mezzo per due metri e mezzo qua faremo tutte le foto ci sono anche le polaroid ammetto che adesso che sono arrivata qua mi sono un attimo calmata però a casa è un'ansia assurda perché in realtà non è la mia prima classe sapete che io lavoravo anche in palestra quindi ne ho fatte ma questo è speciale perché per le ragazze che mi seguono da tanto tempo che fin dal primo momento hanno creduto in me fan parte della piattaforma ormai siamo cioè proprio come una famiglia si sono creati dei rapporti bellissimi anche perché ci sentiamo sempre sul nostro gruppo telegramma e quindi direi che è arrivato il momento di preparare tutto perché stanno arrivando ma che composizione ho fatto cioè guardate l'ordine mai successo non so mi sentivo ispirata oggi qua sono le magliette e qua accoglieremo tutte le ragazze ovviamente li consegneremo queste cosine per un'occasione speciale però non potevo che indossare dei gioiellini particolari questi qua sono di pur lei e questi qua sono sulla tonalità dell'azzurro sono bellissimi li avete visti prima che me li mettevo mentre mi preparavo i gioielli di pur lei sono resistenti all'acqua io li uso tranquillamente sia per fare la doccia che per allenarmi infatti oggi ho deciso proprio di indossarli oggi volevo qualcosa di semplice ma che adesso è un pochettino di luce oltretutto io ho tutti i gioielli argento ma dopo che ho fatto la seduta di ermocromia ho scoperto di essere primavera e quindi a me i gioielli oro diciamo mi stanno meglio e quindi ho colto l'occasione anche per fare un pochettino di rifore di rinventi di gioielli appunto in palette anche Lara gli ha messi tu in occasione di questo evento insomma e tu invece hai scelto proprio il coordinato ok lei ha il coordinato sempre su toni dell'azzurro con orecchini un pochettino pendenti e con la noia abbinata si può regolare infatti la porterò un pochino più corta così mi dà meno fastidio però ma quanto sei più alta rispetto a me? eh sono più uscita ma no davvero un 1,90 mi sono portata anche tutte le scatoline perché Lara non aveva fatto in tempo a scegliere insomma quali mettere l'ho detto senti Lara li porto in palestra così almeno è tutto il tempo di decidere ed eccole qua più che altro sono comodissime anche se viaggiate o comunque dovete portarle in giro poi io adoro tutti questi packaging belli curati stupendi vi lascio anche qua il codice sconto da utilizzare per avere il 20% di sconto sul vostro ordine di pur lei a questo punto vado a recuperare le altre ragazze e iniziamo sono le prime arrivate ragazze sono troppo felice davvero vi voglio non faccio chiare tutte adesso vi do andiamo il vostro shakerino e poi ma poi c'è il pezzo forte che saremo tutte le stesse più vali svegliamo un attimo cosa c'è nella welcome box abbiamo soprannominata così uh queste cosine buono ah questa la volevo provare è di pasqua si questa qua è una limited edition al super cioccolato proteine ah il cioccolato buona grazie prego 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 allora la cottina allora bellissima rossa palla dopo la macchina chi me lo disfrutta raga che bello no sono troppo felice adesso che siamo ancora in condizioni presentabili facciamo tutte le foto dopodiché incomincieremo il nostro workout quindi un pochino che sapete sono indispensabili 3 2 1 a partita tutta la gente che mi frega niente delle tue cose a questo punto ci siamo non vedo l'ora sono davvero carica diciamo tutta l'ansiella che avevo prima in questo momento non c'è più voglio soltanto iniziare ad allenarmi con loro e vedrete siamo ci siamo ci siamo siamo pronti andiamo a chiamarle allora grazie a tutti grazie a tutti stiamo cominciando adesso la visita ovviamente ad un corpo come è stato fatto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e davvero vai sono davvero felice di quello che ti hai creato anche sul gruppo spero che anche per voi sia stato bello è importante conoscermi dal vivo però essere qui è un'altra cosa quindi volevo davvero ringraziarvi tantissimo tutte molti di voi anche fatti chilometri per venire qui e quindi davvero super grazie io ero molto fortunata oggi non so se mi avete mi iscritto sono sempre super tranquilla così ma è bella dieta perché noi abbiamo detto davvero tantissimo e mi facciamo grazie work out terminato mi sono un po' commossa alla fine vederle tutte qua dal vivo è un'emozione indescrivibile cioè alla fine è da più di un anno che ce le andiamo in diretta io so chi sono ma diciamo poterle abbracciare condividere con loro questo momento che alla fine è anche la cosa che ci ha unito il workout la nostra passione e quindi è davvero stupendo ancora non ho parole adesso forse anche che mi vado un attimo a mettere a posto e vado a recuperarle in spogliatoio comunque mille emozioni non avrei mai pensato che a distanza di un anno sarebbe successo comunque tutto questo quindi super felice super soddisfatta delle mie ragazze soprattutto e dopo il workout dobbiamo un attimo ritrovare le nostre forze quindi andiamo tutte a mangiarci un bel pochè che stiamo aspettando insomma siamo un po' quindi ci metteremo un pochettino a farlo e poi andiamo al parco a mangiarcelo finalmente possiamo sederci mamma mia sono distrutte poverina vi ho fatto camminare tantissimo per arrivare fino qui ciao ragazze a presto grazie mille tanto ci sarà una prossima volta adesso sono tornando a casa e mi manca solo una piccola cosa per rendere questa giornata ancora più speciale ovvero un gelato si 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 adesso vado a prendermelo anche perché è un caldo assurdo e mi prendo un gelato tranquilla con la larona gelato onto ho preso nocciolato e pistacchio su crema è proprio quella che sta mi fa andare avanti piccole e nocciolato più ed eccomi qua tornata nella mia cameretta all'alba delle 6 evento terminato ci tenevo a passare proprio tutta la giornata insieme alle ragazze di Awarfitab le ragazze che sono venute perché non è solo workout la nostra community è molto altro sono felice che si siano create anche delle amicizie proprio tra le ragazze stesse perché alla fine come vi ho detto ci sentivamo soltanto tramite il gruppo telegram ma alla fine parlando praticamente abbiamo scoperto che c'erano ragazze che facevano la stessa università alcune abitavano a 10 minuti da casa quindi sicuramente è un modo anche questo per creare dei veri legami delle vere amicizie anche per loro che appunto condividono la stessa passione io non ho ancora parole per descrivere quello che ho provato avete visto che alla fine del workout mentre facevo ringraziamenti sono tipo scoppiata in lacrime non è una cosa che succede spesso ma c'erano così tante emozioni che non sapevo davvero come farle uscire quello è stato l'unico modo tutto questo diciamo fino ad un anno fa non esisteva neanche e avere lì tutte le ragazze allenarsi insieme condividerle la stessa passione fare fatica insieme perché alla fine del workout è stato devastante è stato davvero speciale vi ricordo che vi lascio qua su tutte le informazioni riguardo a Warfit Hub avete anche un workout gratis gambe glutei da provare in modo tale da vedere se la mia metodologia di allenamento vi piace e io spero che questo video vi sia piaciuto e di avervi fatto conoscere un pochettino meglio la community e per me è stata davvero una giornata speciale come anche per tutte le ragazze quindi se anche tu vuoi entrare a far parte di questa famiglia trovi qua sotto tutte le informazioni a questo punto se non ci è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video ciao